prima di iniziare il video ci tengo a dirvi una cosa tratterò degli argomenti che riguardano la corrente elettrica non toccate mai i cavi elettrici se non sapete quello che state facendo limitatevi semplicemente con questo tester verificare che l'impianto funzioni correttamente in base al risultato mostrato dai led che appariranno che vedremo fra poco quindi non manomettete nulla se rilevate che qualcosa non vada bene per quanto riguarda il salvavita per quanto riguarda il posizionamento del cablaggio rivolgetevi ai professionisti a meno che non siate davvero bravi e in gamba perché con la corrente non si gioca adesso possiamo iniziare ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube e nel mio piccolo laboratorio stavo sfogliando il nuovo volantino della lidl mi sono accorto che il giorno 25 ebbraio verrà proposto questo test per prese elettriche io già ne possiedo uno che però non è parkside l'ho comprato su amazon più di 1 1 2 anni fa perché a casa mia mi sono accorto nel pozzetto esterno che il paletto conficcato a terra per la messa a terra della corrente non era collegato quindi ho chiesto di un gruppo di elettricisti che mi hanno detto di verificare appunto la correttezza dell'impianto perché avrei potuto avere molte prese non collegate se non tutto l'impianto non collegato a terra mi hanno proposto di comprare questo che è un tester identico a quello che uscirà giorno 25 della lidl siccome molti di voi già mi hanno contattato chiedendo che se io sapevo di cosa si trattasse ho deciso di farvi un video su questo che sarà la stessa cosa di questo in modo da capire appunto di cosa si tratta come funziona se il caso di acquistarlo o meno costerà 5 euro e 99 e secondo me è un tester che a casa può tornare utile per verificare la correttezza dell'impianto della presa comunque l'impianto generale di casa tra l'altro verifica pure il funzionamento corretto del salvavita quindi vediamo come funziona facendo alcune prove con un piccolo impiantino che ho appena creato iniziamo e allora quindi si tratta di un tester elettrico che ci permette di verificare la correttezza dell'impianto elettrico di casa può capitare di avere delle prese che abbiano un filo scollegato o che non abbiano la messa a terra installata oppure che abbiano altri tipi di anomalie ma ci permette pure di verificare il salvavita a un attacco sciuco io utilizzerò quest'altro dispositivo che della tac life questo però non è più disponibile dopo almeno un paio di anni che l'ho acquistato mi sono accorto che non è più disponibile online questo modello ma vi lascerò comunque in descrizione e nel primo commento alcuni link per poter vedere le caratteristiche tra l'altro ci sono anche modelli dotati di display eccetera ma vediamo direttamente a cosa serve e come funziona man mano che lo utilizzerò poi in base al comportamento vi lascerò dei riquadri con dei riferimenti sul modello del parkside quindi appariranno in corrispondenza di quello che aprirà su questo dispositivo anche quello che poi vi apparirà sul dispositivo della parkside allora per adesso la linea è perfettamente collegata quindi abbiamo il cavo marrone con la fase fatti con questo cerca fase si illumina la lucina quindi la fase è collegata sul marrone la messa a terra al centro questa invece è la linea neutro collegando il dispositivo vediamo che ci darà dei riferimenti con dei puntini che rappresentano questi led qua in alto e per avere un collegamento corretto quindi tutto l'impianto messo regolarmente dovremmo avere il primo led spento e due led successivi accesi che corrispondono appunto ad un impianto corretto infatti collegandolo si accenderanno i primi due led va tenuto collegato solamente per alcuni secondi per ogni presa adesso ho scollegato il cavo di terra e collegando il dispositivo alla presa dovrebbe accendersi solamente il led centrale quello verde e infatti ci va a indicare che manca la messa a terra ora ho scollegato il cavo blu quindi quello della linea neutro provo a collegare il dispositivo in questo caso dovrebbe darmi solamente l'ultimo led acceso infatti mi conferma che manca la linea neutral adesso ho invertito fase e neutro il dispositivo dovrà darci un segnale con i primi due led accesi quindi il led rosso e il primo led verde infatti anche in questo caso ci conferma l'errore questo tipo di dispositivi però va bene anche nel caso in cui dobbiamo utilizzare ad esempio delle prolunghe in quel caso anche se l'impianto di casa è stato realizzato correttamente una volta che inseriamo la spina nella presa e ci troviamo un'altra presa all'estremità che può essere posizionato casualmente in uno o nell'altro modo con un dispositivo come questo riusciamo a verificare la correttezza considerando che la fase è a destra se io lo collego in questo modo e ho la fortuna di trovare la fase sulla destra avrò il dispositivo che mi dà un collegamento corretto quindi saprò come collegare l'eventuale dispositivo nel caso in cui inserirò la spina al contrario ovviamente risulteranno invertiti quindi un dispositivo che oltre a verificare la correttezza dell'impianto ci verifica anche il posizionamento dei cavi all'estremità di una prolunga o comunque nel caso in cui una presa asciugo un altro tipo di presa vengano collegate sotto sopra all'interno di una cassetta in quest'altra prova invece ho invertito la fase e il cavo di terra collegando il dispositivo avremo un risultato con il primo led acceso di colore rosso e l'ultimo led acceso di colore verde quindi anche in questo caso conferma che si tratta di un impianto eseguito male ora invece facciamo l'ultima prova per quanto riguarda l'errore sul collegamento dei cavi quindi la mancanza proprio della fase in questo caso collegando il dispositivo tutti i led rimarranno spenti vi consiglio di testare il dispositivo su un'altra presa nel caso in cui non dovesse avere nessun led acceso perché potrebbe trattarsi di un mal funzionamento del dispositivo quindi se su un'altra presa funziona e su quella che stiamo testando non funziona quindi non si accende nessun led vuol dire che la presa sulla quale stiamo lavorando ha realmente un difetto se invece non si accende su nessuna presa potrebbe trattarsi del dispositivo danneggiato abbiamo verificato quindi tutte le varie possibilità di errore di collegamento che questo dispositivo riesce a rilevare però riesce anche a testare il salvavita tutti i salvavita in realtà hanno già un tastino che serve a verificare il corretto funzionamento quindi un tastino di test che premendo lo stacca la corrente però potremmo avere un problema sull'impianto comunque sospettiamo che possa non attivarsi il salvavita quindi collegandolo e premendo questo tasto dovrebbe andare via la luce quindi adesso lo collego provo a premerlo vediamo se l'impianto di casa mia funziona correttamente ok è andata la via la corrente quindi adesso vado a collegare di nuovo il salvavita e continuiamo con il video ok quindi abbiamo visto che funziona pure il test per il salvavita diciamo che il dispositivo svolge le funzioni necessarie potere fare una verifica del corretto funzionamento dell'impianto di casa e allora ragazzi quindi cosa dire di questo tipo di dispositivi di tester sia parkside tac life o tanti altri che lascerò giù nella descrizione e nel primo commento sono dei dispositivi che ci servono a verificare se il cablaggio di casa sia corretto ma anche semplicemente se la posizione della presa si è stata montata correttamente perché anche se l'elettricista ha collegato correttamente cavi se per un motivo qualunque abbiamo avuto necessità di smontare la cassetta poi di riassemblarla possibilmente l'abbiamo messa sotto sopra e quindi abbiamo la posizione della fase e del neutro che non sono corretti in questo modo riusciamo a capire considerando che la fase sarà sempre alla destra del dispositivo come collegare l'eventuale presa per esempio per uno scaldabagno o altri dispositivi che hanno bisogno di avere la fase in un determinato punto del cablaggio che vada ad arrivare appunto al dispositivo alimentaremo nel modo corretto ci fa verificare anche la correttezza del salvavita quindi abbiamo la sicurezza che funzioni pure bene dico che questo tipo di dispositivi in casa non sono essenziali assolutamente che ci permettono di stare più sereni se abbiamo dei dubbi sul nostro impianto vi ricordo di non mettere mai le mani dove non sapete come muovervi detto questo ringrazio di avere visto il video fino in fondo spero di esservi stato utile spero di avervi fatto compagnia spero che il video vi sia piaciuto quindi vi invito a cliccare sul mi piace vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere un segno di spunta pure sulla campanella modo da ricevere tutte le notifiche ogni volta che caricherò dei nuovi video e video appuntamento ai miei nuovi caricamenti ciao da riccardo ea presto